La Giunta regionale delle Marche ha approvato la proposta di Piano Sociosanitario 2019-2021 che ora passerà al vaglio della Commissione Consiliare Competente. Non mancano le polemiche delle opposizioni e le serie preoccupazioni espresse dai territori, ma il Presidente Ceriscioli si dice certo di aver fatto un ottimo lavoro. Si apre così anche la fase delle audizioni per illustrare gli obiettivi e avviare confronti approfonditi. La proposta adottata dalla Giunta, in forma in una nota la Giunta stessa regionale, è già il risultato di una prima fase di concertazione con le parti sociali e le categorie interessate. Partecipazione e concretezza sono, secondo il Presidente Ceriscioli, i tratti salienti dell'atto di programmazione. Abbiamo garantito un livello di partecipazione come non c'era mai stato. Partecipazione che non si limita all'approvazione che continuerà nel tempo. Speriamo oltre i tre anni dalla programmazione e sul fronte della concretezza Ceriscioli aggiunge il piano tiene insieme l'analisi dei dati strutturali e gli obiettivi, come l'appropriatezza, l'accessibilità ai servizi, le liste d'attesa, le fragilità e le cronicità e lo fa attraverso una declinazione in schede estremamente efficace e concreta. Grazie.